e qui abbiamo già insomma Luca Mazzoleni e Andrea che non lo vedo insomma il regista semplicemente una descrizione così generica è una birra di stile teso quindi molto leggera bionda e si beve bene anche molto bene non può andare avanti così non ce la facciamo non è non è umanamente possibile fare tutti questi carichi a spalla e decisi di prendere un elicotro bisogna esigere un impegno dalle persone di competenza che stiano fuori di queste cose perché non si possono affidare sempre all'entusiasmo perché questo entusiasmo poi si smorza guarda è tutto l'appennino centrale il problema non è scalare le montagne con gli sci e dormi da qualche parte la sera perché dove prima c'erano la metà sotto i rimutati a fare il scialpinismo qui o al velino o alla magliella e più della metà erano del nord Italia ce l'abbiamo cioè ci abbiamo il posto ci manca ci abbiamo il mercato non abbiamo le strutture perché si pensa a fare qualcos'altro punto punto